Buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari e sono uno scrittore fantasy. Il genere fantasy è universalmente considerato un genere minore. Lo scrittore fantasy non vince mai il premio Nobel per letteratura, adesso lo danno veramente a tutti. Non vince nemmeno il premio strega, quello si dovrebbe toccare, se non altro per il nome. In effetti il genere fantasy è un genere per bambini e semideficienti. Non so se avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo, quando con i coloni verso il basso fanno io sono Skrunk, figlio di Skrunk, dati due di Pner, ecco. Il genere fantasy è quella roba lì. In realtà il genere fantasy è un genere straordinario che fonde due generi precedenti, il poema epico e la fiaba. E il poema epico contiene valori maschili, contiene la realtà, il coraggio e la cavalleria. E con questo non voglio dire che noi femminucce siamo tutte delle vigliacchette, ma il coraggio è una virtù da maschi, ci va il testosterone. Perché i maschi sono più coraggiosi di noi? Perché la nostra vita è più preziosa della loro. Se quando siamo incinte di sei mesi e ci mettiamo a fare il doppio salto mortale con lo skateboard, né noi nel piccolo facciamo una bella fine. Quindi è l'uomo, l'adolescente, il giovane, che deve sedurre la donna, che le mostra il suo coraggio facendo il doppio salto mortale con lo skateboard, esattamente come il pavone mostra la coda, per dirle, guarda quanto sono coraggioso, se ci sarà da morire per te o per i nostri figli, io andrò verso la morte. Mentre la fiaba contiene valori femminili. La fiaba contiene il desiderio, che è nostro, di essere amate fino all'ultimo dei nostri giorni e vissero sempre felici e contenti. Eh sì, questo è un desiderio nostro. I maschi qualche volta dopo i primi anni cercano di scappare e allora bisogna acchiapparli per la coda. Perché? Perché noi disponiamo di un cervello preistorico. Il nostro cervello ha avuto il suo periodo più lungo durante l'età della pietra. Se l'età della pietra è lunga da qui a qui, tutto quello che viene dopo è uno sbaffino di mezzo millimetro. E per una donna l'unica possibilità di sopravvivere è di avere un uomo che muoia per lei e che resti con lei fino alla fine dei suoi giorni. Quindi, per una donna, la promiscuità sessuale è sempre un'autoaggressione. I nostri cervelli arcaici vogliono il bambino. I nostri cervelli arcaici vogliono la sessualità con un uomo che per noi si è disposto a morire e che resti con noi fino alla fine dei nostri giorni. E vissero sempre felici e contenti. Cos'altro c'è nelle fiabe? La persecuzione dei bambini. Cos'è la letteratura fantastica? Ce lo spiega Kafka. La letteratura fantastica è il posto dove noi teniamo i mostri. Eh sì, quando qualcosa è troppo atroce per guardarlo negli occhi perché ci brucierebbe gli occhi per l'orrore, noi lo nascondiamo dentro le volute d'oro e d'argento delle fiabe così finalmente possiamo parlarne senza averne lo sguardo distrutto. Questo è rappresentato in un mito molto bello, quello della medusa. La medusa è la realtà. La guardi in faccia frontalmente e resti di pietra. Pietrificato è allora per poterla affrontare, per poterla vincere, devi guardarla riflessa in uno specchio, riflessa in uno scudo. Questo è lo scopo della letteratura fantastica. Nella onipresente figura dell'orfano c'è la rappresentazione metaforica del bambino non amato. Il dolore del bambino non amato è terribile, è totale, ed è stato trascurato, ignorato dalla scienza fino a pochi decenni fa. Solo pochi decenni fa il neuropsichiatra Volbi si rende conto del terribile dolore del bambino che perde la madre. Il libro si intitola Attaccamento e perdita. Il bambino nasce avendo già nel cranio la conoscenza che deve attaccarsi alla signora che c'è dall'altra parte del cordone umbilicale, che è mamma. Il bimbo ha imparato a conoscere la voce di mamma diversi mesi prima di nascere. Impara a riconoscere il suo odore pochi minuti dopo essere nato. Se la perde è quella che si chiama una ferita primaria. Per tutta la vita avrà gli ormoni da stress alti. Il dolore del bambino non amato era chiuso nella figura dell'orfano, motivo per cui sono sempre tutti orfani. Biancaneve, orfana. Cenerentola, orfana. Spiderman, orfano. Harry Potter, orfano. Il brutto natrocolo Pinocchio, figli di genitori dispersi e non identificati, prima o poi scopriremo chi sono i due responsabili che dopo aver messo al mondo qui qua qua li hanno mollati a zio Paperino. Cari amici, siamo sicuri che ad alcuni di voi questo video è piaciuto molto e siamo sicuri che alcuni di voi avrebbero gioia a poterci aiutare a fare altri video come questo. Per farlo ci sono due modi. Uno, con una donazione a questo conto corrente. L'altro, sceglierci con il 5x1000 dando al vostro commercialista questo codice fiscale. Grazie.